La storia ogni giorno, oggi particolarmente dopo due piazzamenti, io mi stavo veramente bene, ho fatto la mia volata e sono rimasto un po' chiuso, secondo me scorrettamente come è andata poi che hanno declassato il primo e secondo me è giusto così perché mi sentivo che riuscivo a vincere e oggi ce l'abbiamo fatta, dai. Sì, era per passarlo, la gamba era buona e mi sentivo di passarlo, lui mi ha chiuso sulla sinistra e purtroppo ho smesso di pedalare, sono arrivato dietro però come ho detto prima avevo la gamba per vincere oggi. Che si addicono alle mie caratteristiche e quest'anno particolarmente in vista del Giro d'Italia ho cercato di arrivare con una condizione buona qui e niente, dopo due piazzamenti è arrivata la vittoria che era il nostro obiettivo qui in questa gara della squadra e siamo veramente felici, contenti e quindi penso che qualcosa ci sia. E questa vittoria era un po' di tempo fa, era tempo? Sì, 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 avevo bisogno di vincere, è meglio vincere, sai, avendo la foto che alzi le mani però va bene lo stesso, una vittoria è una vittoria.